Yo, 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 Yo Kai Watch Ciao a tutti coach, ben ritrovati a vostro, andrei in cron to 1 su Yo Kai Watch 2 Siamo in questo momento al settimo circo dell'inferno infinito, devo andare ad affrontare Pelipo Allora, vediamo un po' Non mi ricordo assolutamente la strada, ma ovviamente è quella sbagliata Come può essere quella giusta, no? Anche perché nello scorso video c'ero andato di là per appunto aprire la porta E avere un più facile accesso al settimo circolo, ma vabbè, non fa nulla Intanto trovo a maniare lo lunare, ho preferito partire con la registrazione dal settimo Almeno non perdo tempo a mostrarvi tutte quante la strada dal primo fino al settimo Ecco, dovremmo esserci Questo è me lo ricordo, questo ponte Qui c'è Pelipo Accidenti Fa impressione Mamma mia Allora, gli Yo Kai sono pronti, ho cambiato la disposizione, tanto per So che magari l'inguermiera dovrebbe stare in cima, però Proviamo così Almeno faccio direttamente la combinazione audace con l'ucenio e la forte Mi sono munito di molti hamburger e anche di latte alla frutta Quindi li posso ricaricare tranquillamente e andare direttamente alla sfida contro Wokshillo Sperando di farcela Quanti? Secondo te quanti tentacoli ha? Ah, forse ha ripreso interesse Beh, Whis, per questa è un'ottima domanda Prova a contarli mentre combatto Io ho paura comunque Beh, probabilmente saranno 10 tentacoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 È una seppia dopo tutto Sono 2, 4, 6, 8 A meno che non ne caccia due da nulla E diventa un Entai Va benissimo Tutti incantati, di già Grazie Iniziamo bene il combattimento Ah, perché non gli faccio nulla? Non mi ricordo Devo rompergli i tentacoli prima? Se mi pare i tentacoli era, non mi ricordo Ci ho combattuto una volta No, due volte In tutto quanto Yo-Kai Watch Perché una è la sfida finale, no? Della storia Un'altra è quando rincontri appunto l'Inferno Infinito Ecco, sì La pancia devo prendergli ora Eh, non proprio Cioè, quando si apre gli faccio male Prova a farla aprire Ecco Mui faccio male Mamma mia Cosa cacciato dalla sotto Allora A 11 tentacoli È fattibile Ma ci vuole tempo Troppo tempo Insomma Non sta andando affatto male Anzi Sta andando piuttosto bene Devo ammettere Apri sta bocca Apri Beh, ci sono quasi Eccola Haha Baby Fatto Oh yeah E ho anche avuto due Super fortuna Quando ho purificato gli altri Yo-Kai Quindi insomma Un bel po' di punti Ci sono 28.000 Wow Energy max di Fuimuro e di Leoforte al 6 Tecnica di Linguer Mira 4 I segreti dell'anima Buono Ho già distribuito gli altri Gli altri segreti dell'anima Intendo Andiamo un po' a distribuire anche questo Aumentare l'energy max Aumentare quello di Lucenio A questo punto Che è più basso Linguer Mira Sta bene così Per il momento Allora andiamo ad affrontare anche L'ultimo boss Se ce la faccio Se no Niente Se no Perdo miseramente Eh vabbè Cosa bolle in pentola? Oh allarme di Sony Uno Yo-Kai sigillato di origine non identificata Come avrai capito Non abbiamo nessuna informazione su di lui Whisper questi Sony Dovrebbero essere appunto Sigillati? Ottima osservazione Andrea Forse è il motivo per cui in questo luogo Regna il caos più totale O forse perché si chiama Inferno Infinito Tu che dici? Per fortuna sta dormendo Sigiliamolo Yo-Kai prima che si svegli Eh? Eh? Ah-Ciu! Bravo Whisper Attimo lavoro Buongiorno Oh c'è Era proprio il momento peggiore Per star notire Salve Io sono Avremmo bisogno di usare la forza Per rimettere la nanna? No Whisper Forza Andrea Eh Tu non mi conosci Ma io conosco a te purtroppo E mi ricordo che era una rottura di palle Incredibile Perché poi Quando agli occhi rossi Mi sembra solo attacchi fisici Quando agli occhi blu Solo attacchi speciali Insomma è un miscuglio Bisogna intanto rompere i sigilli Per prima cosa E non penso che andrò a usare Gli energy max Per rompere i sigilli Ah quando si fa male Walkshee lo dice Bene Sì ma non ti incazzare Stai tranquillo Siamo tra amici Stai tranquillo Sì gli incanta il talismano Così è capace non si riapre Sì ma stai buono Ti ho detto Accidenti a te Walkshee lo Ciao Dunque vediamo se gli occhi rossi Sono attacchi fisici Perché non mi ricordo Sì Manco per il cavolo Aiamo non mi ricordo Quali attacchi Attacchi spirituali Attacchi fisici Dei yokai Devo andare a caso Dovrebbe essere Speciale questo di Malonian Sì Quando mai Ecco quello era speciale Vabbè la prima prova È ovvio che la perdevo Vabbè vabbè Motorno Aspettami Non ti allontanare Dai ragazzi Ci siamo Ci siamo Non so se ce la faccio Però eh Potrei Dovrei Dovrei potercela fare Perché finora Così l'ho visto Maestro lui Mi ha dato una grandissima mano Anche gli altri Dunque adesso Solo gli attacchi speciali Se non sbaglio Quindi posso andare tranquillamente Con il maestro mio E fargli un botto di danni No No E vai Bello carico Fallo secco 214 E il maestro mio L'ho allenato Appena appena Giusto un paio di livelli Mi sembra Proprio Giusto Per portarlo a questa battaglia Che l'ho preso A livello 66 Quindi insomma Giusto proprio Per questa battaglia L'ho portato Aiaiaiaiaia Maestro mio no Ah che miseria Andrò a purificarli Vede in ombra pure Mi sta dando una grandissima mano Però Insomma La difesa è un po' bassina Se resisteva qualche colpo in più Era meglio Dunque intanto Ricarico un attimo L'energia max del maestro mio Così almeno posso colpirlo Con gli attacchi fisici E speciali Voglio dire Spirituali Come vi pare Chiamarli Ah però ci vuole Devo aspettare ancora un po' Resistete ancora un po' Un pochino intanto che si ricarica L'energia max Ma ci siamo Ci siamo Un po' Di attacchi speciali Anche di Dark Nian E ci siamo È finita Wow Dai che ci siamo Su Non mi fate aspettare oltre Oh eccolo Latte alla frutta Ricaricatissimo Andiamo con me No non ti cambi Vabbè Dark Nian Allora È fatta Ci siamo Dai E quante volte attacca Su Sì 2 in teoria Per dire Per dire 218 danni E va giù Walk Shillo Però mi deve droppare Un Una cosa Precisa Uno strumento preciso Non voglio le monete Per la slot Kai Ok Walk Shillo è andato Quanti punti esperienza mi dai Più 39.974 Maestro mio a 70 Bene I soldi 80 Melma Spettrale A prima Botta Ma che Culo Oh Melma Spettrale Serve A reclutare Walk Shillo Ed è anche Quello che serve Per la missione Di Lucio Quando Lo troviamo Di vicino al tempio A retta via No vicino al tempio Della retta via Al monte Selvo Scura Mamma mia Che culo Oh ma Quasi 40.000 punti esperienza Insomma Devo dire Che mi ha aiutato molto Maestro mio A portarlo Nel team Che culo ragazzi Melma Ecco fatto Va molto meglio Ora Non è possibile La tua filastrocca Ha davvero funzionato Siamo una squadra Invincibile Andrea Anche lo io che è più terribile È una passeggiata per noi Scusa Forse mi sono distratto Ma hai fatto qualcosa Durante la battaglia Oh Eccolo Eh È stato carato qualcosa Forse è Una corda Pare proprio di sì Come se fossero Invenuto ad arrampicarci Che facciamo Non possiamo fare altro Che arrampicarci Ok Praticamente Questa parte del Ehm Del paradiso divino La corda Serve ad arrampicarsi E ci porta Sì Al paradiso divino Ma Preferisco tornare Un altro momento Al paradiso divino Quindi Kooj Per questo video Finalmente È tutto Ho registrato in due parti Come ho detto appunto Nello scorso Perché ho visto Che la prima volta Era praticamente impossibile Mi sono allenato un pochino Ho giocato un pochino meglio Quindi Per ora Per il momento Il team definitivo È questo Quello che vedete Ora sullo schermo Poi magari Nel corso Lo cambio Poi vedo come vanno Comunque sia Maestro Mew e Mastic Dico anche Mastic Anche se non ce l'ho nel team Sono di una Ma Sono di una Di un aiuto Grandissimo Durante il gioco Se ancora non L'avete finito Se non l'avete ancora fatto L'inferno infinito Io vi consiglio Di prenderli Tutte e due Come ho fatto appunto Nel video tutorial E di usarli Per arrivare Almeno fino a Walkshill Poi se Walkshill Trovate altri modi Più semplici Per batterlo Buon per voi Però comunque sia Occhi blu Attacchi fisici Occhi rossi Attacchi Spirituali O speciali Come vi pare Chiamarli Quindi per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Nel prossimo Inizierà probabilmente Il paradiso divino E se non siete ancora iscritti Al canale Iscrivetevi Noi ci vediamo In un prossimo video Bye bye